TELENOVA GIORNALE TELENOVA GIORNALE Noi ragusani sappiamo cosa vuol dire fare sociale, noi ragusani sappiamo stringere le mani a chi veramente ne ha bisogno. Io ricordo a qualcuno che l'articolo 5 del comma del comune di Ragusa dice che qualsiasi cittadino ha diritto di udienza a essere ricevuto, a dire la propria. Questo a Ragusa non viene rispettato, mi dispiace di cuore. Questo è sempre stato il comune e la casa di tutti, sta diventando un palazzo di cristallo dove è proibito sapere ciò che accade, dove non c'è trasparenza. Questo non può funzionare. E' la protesta della comunità ragusana che si raccoglie attorno a gente che non arriva non più a fine mese, che non arriva il giorno dopo. E' una protesta della nostra associazione, che accompagna questi indigenti che già da 5 giorni che stanno protestando. Noi abbiamo deciso di unirci alla loro protesta, dormiremo con loro, ma abbiamo fatto anche delle proposte, abbiamo chiesto di incontrare il commissario con la conferenza dei capi gruppo, abbiamo chiesto di incontrare Di Mauro, il presidente della commissione ai servizi sociali. E quindi oltre alla protesta abbiamo anche proposto il metodo con cui noi chiediamo, pretendiamo di risolvere il problema. Mentre ci sono dirigenti che guadagnano decine di migliaia di euro, ci sono centinaia di ragusani che muoiono. E noi non possiamo che prendere atto di questa situazione e continuare a protestare fin quando questa questione sarà risolta. Noi saremo accanto agli indigenti di giorno e di notte, fino a quando questa questione sarà risolta. Lo dicevo prima ai ragazzi e ai cittadini ragusani, la città di Ragusa dovrebbe essere grata a queste persone che oggi stanno manifestando, perché hanno posto con forza un problema reale che colpisce tutti, che tocca tutti. Qua saranno presenti un centinaio di persone, ma la cosa riguarda circa 580 famiglie, senza contare poi le persone disabili, eccetera. Ma soprattutto bisogna capire, bisogna che i ragusani capiscono che loro sono solo il primo anello debole di questa catena, ma la cosa toccherà a breve anche ad altre persone. Quindi bisogna manifestare tutti assieme, tutti uniti. Finalmente dopo dieci giorni di protesta il commissario Rizza si è degnato di ricevere questi cittadini. Vediamo domani quali saranno le proposte della commissaria, ma sicuramente da questa assemblea usciranno le proposte dei cittadini e quindi andranno confrontate con le proposte del commissario. In ogni caso io credo di poter parlare a nome di tutti. La lotta, se il commissario non darà risposte serie, la lotta continuerà, perché queste persone hanno bisogno di avere delle risposte, delle risposte che gli ridiano dignità soprattutto. Nota polemica da parte della CGL, Camera del Lavoro Territoriale di Ragusa, nei confronti dei provvedimenti assunti dal commissario straordinario Margherita Rizza a proposito dei tagli al welfare locale. Il Comune, scrive la CGL, retto da un commissario straordinario che puntualmente disattende le richieste del sindacato sulla convocazione del tavolo permanente sul welfare, continua a colpire le fasce più deboli e bisognose, prima riducendo del 30% l'assistenza domiciliare agli anziani, poi annullando il servizio di trasporto per 80 utenti diversamente abili. Infine, ma non sarà purtroppo l'ultimo atto, negando ad oltre 500 famiglie bisognose e indigenti il sussidio economico. E così la situazione non varia nella provincia. Il Comune di Modica, dice la CGL, continua nella strada dello smantellamento dei servizi sociali. Fino a qualche anno fa, fiore all'occhiello di una città, esempio virtuoso di politica inclusiva e di solidarietà reali. È stato approvato il predissesto, sforbiciando nei vari capitoli dei servizi sociali, comprese i parti di quelli essenziali. Per non parlare di ciò che succede a Comiso, Comune da un anno al dissesto finanziario, e a Scicli, dove da tre anni ormai ogni voce di capitolo di spesa per servizi è stata azzerata, è una situazione grave e insostenibile, scrive la CGL, assolutamente inaccettabile. Non è con la politica della macelleria sociale che si risolvono nel territorio i problemi nel lungo tempo della crisi. A 5 punti nella zona play-off, l'Iblea 99 nel campionato di calcio a 5 Serie C2 ha conquistato 20 punti con una fondamentale vittoria in trasferta nell'ultima giornata di campionato dello scorso anno. Sabato al Palaparisi incontro con il Leontinoe Santa Tecla di Lentini. Nella parte finale del giornata andata la squadra finalmente ha raggiunto l'equilibrio sperato all'inizio di stagione e diciamo che ha intrapreso un altro cammino ben diverso dall'inizio in classifica. Una vittoria fuori casa che ha fatto morale, adesso c'è questo incontro di sabato con Lentini. La vittoria di Via Grande è stata fondamentale perché giocavamo con una squadra che era 3 punti sotto di noi e proprio in lotta per la salvezza come l'altro di noi. Quindi aver vinto lì in trasferta vale doppio, valgono 6 punti perché poi giustamente se si perdeva potevamo essere raggiunti, invece abbiamo fatto un bel salto di ugualità in classifica. Presidente, una Ragusa che può comunque ambire una zona utile nella griglia di playoff? Ma da come è partita la stagione l'obiettivo dopo le traversie estive si sono verificate alcune defezioni importanti rispetto all'anno scorso avevamo programmato per una stagione tranquilla. Il tutto pare che stia rispondendo alle attese dopo un inizio abbastanza altalenante. Abbiamo iniziato con un po' di difficoltà però diciamo che la squadra ha iniziato a rispondere alle mie prospettive, al mio ideale di gioco. In ogni partita non molla mai, anche se andiamo in difficoltà a volte ma ci può anche stare. Risponde bene, non molla mai a carattere ed era quello che io volevo dall'Iblea perché so le doti che i miei giocatori hanno e quello che possono dare in campo ed era appunto quello che io volevo. I risultati positivi che abbiamo fatto a fine campionato sono stati ottimi perché ci hanno messo in un punto di classifica tranquillo. Siamo arrivati a cinque punti dai playoff che neanche credevamo però con i sacrifici e il lavoro che abbiamo fatto ci hanno premiati. Però ancora, ripeto, il campionato è lungo, arriveranno momenti di difficoltà, momenti in cui lavorare, però sono abbastanza fiducioso per il proseguito del campionato. Quindi speriamo bene e speriamo che vada tutto ok nel miglior modo possibile. Campionato provinciale a dieci squadre, prosegue la preparazione della Deni Team, la squadra femminile di calcio a cinque. Gli allenamenti si svolgono nella palestra Bellarmine e Crispi a Ragusa. È una passione che c'è da tempo, solo quest'anno abbiamo deciso di far parte di questa squadra, di questa nuova società creata dal nostro presidente Sergio Iacono. Ci siamo rite un po' delle ragazze che per passione avevano il calcio ma che non avevano mai giocato in una squadra a livello, diciamo, adesso provinciale. Diciamo che il campionato comincia ora, il 13 gennaio, e non ci sa se la prima partita sarà spostata e rinviata perché dovremmo avere il derby qui in casa, quindi già come prima partita di campionato, una partita abbastanza importante, già si farà il punto della situazione. Diciamo una squadra abbastanza giovane, fatta di persone che amano lo sport, che hanno avuto sempre la passione per questo sport e speriamo di fare bene. Una passione è quella del portiere che parte da lontano? Sì, dall'età di circa 16 anni ed è durata per tanto tempo, ho fatto parte di un'altra squadra, poi per un periodo ho lasciato perdere, adesso riprendo con la Deni Team sperando di continuare per il più tempo possibile. Come ti sembra questo gruppo? È un gruppo giovane che certamente deve crescere, deve avere molta più esperienza, ma penso che col tempo potremo avere ottimi risultati. Dopo vari mesi di allenamento la squadra è pronta per iniziare finalmente questo torneo che servirà da esperienza soprattutto. Che Ragusa si avrà in campo quest'anno? Io spero un Ragusa aggressivo, perché ho inculcato questa cosa, di essere per lo più aggressivi e poi speriamo anche con un po' di fortuna. Ma da giocatore non è un po' difficile allenare le ragazze? Non è difficile, sembrava più facile, però ci vuole un po' di pazienza, perché mancano molte basi, però per Sergio e Conamico queste altre. Inizio d'anno coi botti per il Teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, per la rassegna teatrale Teatro d'Attore. Il sabato 5 e domenica 6 gennaio, sabato alle 21 e domenica alle 18.30, il Teatro Donna Fugata appunto sarà di scena Alfio Antico con lo spettacolo Semu Suli, Semu Tuttu. Un nome veramente di grande risonanza, siamo con Carlo Ferreri che sta coordinando questa rassegna teatrale. Intanto, chi è Alfio Antico? Perché la sua storia ci ha già tanto incuriosito? Innanzitutto, grazie a voi, sono molto contento di annunciare e di promuovere questo, secondo me, grandissimo evento a Ragusa con la presenza di Alfio Antico al Teatro Donna Fugata per il quarto appuntamento della stagione teatrale 2012-2013 denominata Teatro d'Attore. Qualcuno potrebbe chiedere, ma allora come mai Alfio Antico che è un musicista all'interno di una stagione teatrale? Alfio Antico è un personaggio straordinario, un artista, come si dice, totale. La sua storia è singolare, lui è un ex contadino, pecoraio delle campagne di Lentini che attraverso il suo rapporto con la natura e la sua grande tecnica e preparazione musicale ha cominciato sin da bambino a suonare i tamburi, i tamburi ricavati proprio dalle pelli delle sue pecore. Alfio Antico è riuscito ad affiancare personaggi del calibro di Lucio Dalla in tournée Fabrizio De Andrè e attualmente lavora stabilmente con Vinicio Caposella come percussionista. È considerato Alfio Antico il più grande tamburellista al mondo. Ma dico di più, in questo appuntamento al Teatro Donna Fugata lui porta in prima mondiale uno spettacolo dal titolo Semu Suli, Semu Tuttu, che è un misto fra teatro e musica nel senso che, ripeto, oltre ad essere un grandissimo musicista Alfio Antico è anche un grandissimo affabulatore, un narratore per cui attraverso i suoni dei suoi tamburi, attraverso il suono, la vocalità della sua splendida voce, attraverso le evocazioni contadine legate ad una Sicilia che non esiste più la Sicilia forse che esiste solo nel nostro cervello, nella nostra testa una Sicilia evocativa ci condurrà in un viaggio teatrale musicale e quindi, insomma, vi invito tutti a prenotare per tempo questo importante appuntamento posso dire il numero di telefono? Certo, allora, giusto per avere informazioni in più per prenotare, per i costi, per la prenotazione ovviamente su Piantina quindi è importante chiamare il numero di telefono che adesso Carlo Ferreri ci darà e quindi è importantissimo cercare di partecipare a questo spettacolo perché è veramente un'eccezione che Alfio Antico sta portando a Ragusa Eh sì, il numero di telefono è 339 29 12 245 e, vi ripeto, prenotate per tempo e non mancate a questo appuntamento noi quest'anno abbiamo iniziato col botto con Giuseppe Pambieri che è uno dei più grandi teatranti nel panorama nazionale poi abbiamo continuato con Antonio Venturino a grande richiesta col suo mistero buffo quindi con Francesco Fote e ora abbiamo Alfio Antico la stagione non si conclude sabato e domenica cioè 5 e 6 gennaio ma continua 9 e 10 febbraio con Pirandello Mon Amour che è un omaggio attraverso tre atti unici al grande drammaturgo siciliano Luigi Pirandello e poi continuerà e si concluderà con una mia regia Libero Amleto che è una tragica media in dialetto ragusano che è in sostanza un riadattamento dell'amleto di Shakespeare quindi è una stagione variegata che sta avendo tanto successo e che speriamo possa incontrare il vostro favore Un cortometraggio dedicato a un tema drammaticamente attuale per l'America è quello che vede persone comuni che perdono la testa all'improvviso e armate di fucili e sparano in strada o nelle scuole causando stragi il paese delle libertà dove è possibile con facilità ottenere un'arma continua a piangere i suoi morti si ispira a questo pesante tema il cortometraggio Disruption Disruption realizzata a Los Angeles dal giovane regista Giulio Poidomani modicano ma da qualche anno a lavoro negli States Disruption è la storia di un fumettista che confonde il mondo e i personaggi dei suoi stessi fumetti con la vita e le storie reali dal corto adesso si sta creando una webserie tra le collaborazioni più importanti di Poidomani c'è quella con il regista Peter Cornwell per il film Batman Evolution ma Poidomani ha lavorato anche con altri registi per varie produzioni girate ad Hollywood Disruption dice poi domani mi sembrava la parola esatta per riassumere tutto ciò in inglese infatti indica una brusca interruzione che può provocare anche danni permanenti sull'iscrizione sull'iscrizione a presto